Servizi alle persone e alle comunità, tutela dell'ambiente e infrastrutture. Sono questi i settori di intervento sui quali il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha legiferato di più. A fare un quadro consuntivo generale degli ultimi tre anni di legislazione regionale è il rapporto presentato all'emiciclo dal Presidente di Pangrazio. Alla conferenza hanno presenziato i vertici dell'Ufficio di Presidenza e dell'Aggiunta e il Presidente del Collegio per le Garanzie Statutarie di Plinio. Il rapporto analizza diversi aspetti della produzione normativa del Consiglio. Ad esempio scopriamo che su 350 leggi presentate nel triennio, 104 sono state approvate dall'Assemblea. In più si snocciolano i dati sulla tipologia di proponenti e sulla rispondenza delle leggi ai principi costituzionali. E proprio in questo campo l'Abruzzo sembra essere molto attento con solo 12 impugnative da parte della Corte Costituzionale. L'evento di presentazione del rapporto sulla legislazione ha costituito inoltre un momento di confronto sulle possibilità di evoluzione del processo legislativo in Abruzzo. Sentiamo in proposito le proposte del Presidente di Pangrazio. Questo è un rapporto di analisi che fa capire tante cose, ragionamenti importanti che dobbiamo avviare tra i quali la semplificazione non è solo quella del taglia leggi inutili ma è anche quella di fare dei testi unici in modo tale che ci si possa orientare meglio. E non solo, fare una qualità normativa che vada oltre, che non guardi solo alle esigenze attuali ma guardi anche al futuro, ad esempio il ragionamento delle macroregioni che prima veniva fatto, forse una normativa che guardi anche su questo versante. E non solo, viene fuori la proposta di fare un focus di approfondimento sulla qualità della normativa e di come c'è bisogno che questa qualità venga fatta, esca fuori. Probabilmente non è necessario e sufficiente solo il lavoro dei legislatori e dei consiglieri regionali ma questo deve essere affiancato a un lavoro di squadra fatto da consiglieri regionali, dirigenti del settore legislativo ma anche ricercatori delle nostre università abruzzesi che hanno sempre dato e danno il contributo per avere la base scientifica per una legge di qualità migliore. Grazie a tutti.